Continua la conta dei danni dopo la mareggiata che si è abbattuta sulla costa nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Calcoli precisi non sono ancora stati effettuati, ma in modo approssimativo si potrebbe aggirare intorno al mezzo milione di euro. E questa somma riguarda solo quelli recati alle opere pubbliche principali nella zona fra Sassonia e Lebrecce. Le stime sono in corso di esecuzione, ovviamente non è un'attività mai semplicissima, ma comunque sicuramente si aggirano su diverse centinaia di migliaia di euro. Teniamo conto che c'è da ricostruire via Luggeri con interventi importanti, in particolare la passeggiata di Sassonia. Questi sono i due interventi più vistosi. Poi le analisi sono in corso e la quantificazione è in corso. In pochi giorni avremo i dati. Stiamo attendendo un attimo la regione perché se poi la modulistica fosse un po' diversa rispetto a quella già esistente non vorremmo creare disservizi. La regione si sta attivando in queste ore per la richiesta dello stato d'emergenza per cui prossimamente ci manderà una comunicazione in merito. Invece per quanto riguarda la procedura di risarcimento, come richiesto dal Dipartimento regionale della protezione civile, i cittadini dovranno segnalare al Comune di Fano i danni subiti alle attività economiche produttive con esclusione di quelle agricole e alle proprietà private. La documentazione necessaria comprende i dati anagrafici con un recapito telefonico ed eventuale indirizzo mail, la descrizione, la quantificazione e la localizzazione del danno subito più l'eventuale materiale fotografico. Il tutto dovrà essere indirizzato al sindaco Massimo Serio e dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12 di venerdì 13 febbraio. Il materiale per la segnalazione può essere portato direttamente all'ufficio protocollo in via San Francesco 76, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30 oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.fano-emarche.it Queste informazioni saranno presenti anche sul sito istituzionale del Comune.